È stato un accordo che abbiamo preso con il Sindaco ed è anche un po' l'idea di fondo della proposta politica nazionale di Noi con l'Italia, riattivare un pezzo di società civile di cittadini, di professionisti, di donne e uomini che anziché stare al balcone a guardare vogliono ritornare ad essere protagonisti per ridare voce ai moderati. Le liste civiche sono questa impressione, Noi con l'Italia a livello nazionale vuole essere anche quella voce che dà spazio alle liste civiche, cioè si riparte dai territori, si riparte dalla società civile, si riparte da chi ha a cuore una cosa, servire la propria città e il proprio paese.